La principessa Eugenie sembrava modificare Kate Middleton da una foto del giubileo di platino dello scorso fine settimana. Eugenie è nota per essere particolarmente legata al principe Harry e a Meghan Markle. I fan reali stanno leggendo un motivo segreto dietro la principessa Eugenie che ha ritagliato Kate Middleton da una foto di gruppo del giubileo di platino di sua maestà la regina. Eugenie è nota per essere particolarmente legata al principe Harry e a Meghan Markle. Il fotoritocco è stato visto come la principessa facendo chiaramente una dichiarazione per e per conto di Harry e Meghan. La principessa 32enne ha pubblicato una serie di immagini della celebrazione irripetibile sul suo account Instagram. Ha scritto, grazie, vostra maestà, nonna, per 70 anni di servizio, altruismo ed edizione. Sei una luce così splendente per tutti noi, solo una carrellata finale di alcuni momenti epici del weekend più speciale di cui sono stato così onorato di far parte. Una foto di gruppo dei reali al lavoro sul famoso balcone di Buckingham Palace ha mostrato sua maestà affiancata dal principe Carlo e dal principe William con i suoi due figli, il principe Giorgio e la principessa Charlotte. Ai bordi di immagine, ci sono chiari segni che c'erano anche la duchessa di Cambridge e la duchessa di Cornovaglia, ma non sono riuscite a far parte della foto finale, ritagliata in modo quadrato. L'utente di Instagram Anna Esmeralda Gonzalez ha chiesto perché hai tolto Kate e Camilla dalla seconda foto? Amanda Richardson è andata oltre, dicendo, belle foto, ma perché dovresti ritagliare le prossime due regine, Camilla e Katrin? Molto meschino mia cara. Una volta che la foto è arrivata su Twitter, la reazione è stata ancora più forte. Un utente, che si fa chiamare Rufus T. Firefly, ha detto di sapere perché Eugenie potrebbe essere ostile alle due future regine? Harry è molto legato a Eugenie e alla madre di Beatrice, Sarah Ferguson. Fanno parte della Red Setter Mob, soprannome della famiglia reale, a causa dei loro capelli rossi? Il dottor Zanayomoleva ha dichiarato, per me è il gioco di ritaglio più ovvio. Ha lasciato abbastanza maniche su entrambi i lati in modo che tu non abbia dubbi. In un apparente riferimento alla controversia Don't Touch Mayer, quando i capelli della cantante Solange Knowles sono stati modificati sulla copertina di una rivista contro la sua volontà Pegan Treloni ha scritto, Inizierò a chiamare Eugenie e Solange perché il suo gioco della raccolta è perfetto. Tuttavia, è possibile che i fan reali stiano leggendo troppo in una foto. L'utente di Twitter S.W.H. ha sottolineato, sono sicuro che non sapeva come usare le frecce di ridimensionamento quando pubblicava più foto. Errore innocuo dell'operatore, segui dei star.